ciao amici stamattina ho deciso di fare del radicchio arrostito e nel contempo questo è già pronto lavato ora lo cucino e nel contempo comincio è già caldo perché è acceso sotto mettiamo tutto qua sentite il rumorino che soffrige io l'ho tagliato a fette il radicchio notate questa è una fettina questa è un'altra vedete qua è tagliato così e poi mettiamo le foglioline che purtroppo dal radicchio si staccano e non possiamo farci niente qua c'è un'altra e queste man mano le aggiungiamo per non farle stare troppo strette ora appena sono pronti da girare ci risentiamo sto girando il radicchio lì qua si vede che già si è un po' abbrustolito questo lo rigiriamo questa foglia che è scappata ci sono sempre le foglie che scappano dobbiamo vedere qua io ci faccio dei buchetti faccio dei buchetti in questo punto che è duro ed è più spesso e ci vuole più tempo per cuocere se lo buchiamo entra più calore e si cuoce più anche questo si stava ribellando dice a me perché niente buchi allora amici ho finito di arrostire il radicchio e adesso lo condisco con un poco di sale un pochino di pepe nero molto svolazzante e l'origano dopodiché olio e a questo punto portiamo a tavola e si mangia grazie per essere qui con me e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti